Ciao a tutti ragazzi, sono Aide, come vedete Stavo facendo i gang sign qua Tanto li lascio, tanto li ammazzano te Vabbè Ciao a tutti ragazzi, sono Aide, come vedete torno con un nuovo video E raga, ospite speciale oggi Purtroppo avevo solo lui, non c'era nessun altro Federico Sottoriva Chiaramente Fede scherzavo Sai che ogni tanto mi piace un po' così Sì, fare la stuzzichina, no? Sì, stuzzicarti un attimo Prendersi in giro Sì, no È divertente, sì È divertente Guarda le cagate Voglio farti un gioco, bro, un po' particolare Che secondo me non hai mai visto E non hai neanche mai visto l'oggetto Già ti dico che non l'ho mai visto In realtà è un oggetto molto semplice Vedi, ci sono tre lampadine e tre interruttori Cioè se io accendo l'interruttore sotto il verde Se accende il verde Sotto il rosso è il rosso E prova, prova anche tu E il giallo E il giallo Ok, molto molto easy Però non ho solo questo Ho anche un altro oggetto Anzi, tre oggetti Sono tre gommini Aspetta, vi faccio vedere Di colore diverso Tipo il numero della BMX Vedi, sono uno verde, uno rosso, uno giallo Esattamente come le lampadine E vanno inseriti negli interruttori Ok Quindi ti chiedo ora di tenere questo Ti chiedo pure Ok E ti chiedo di inserire il gommino giallo Dove vuoi tu Nell'interruttore che vuoi tu Faccio qua Ok Sotto il rosso Ok Vedi, prima erano tutti uno sotto l'altro Ora hai deciso tu di mettere il giallo qui Prova ad accenderlo Curioso Ora questo accende al giallo Però aspetta, aspetta Ti do un altro gommino Quello rosso Mettilo dove vuoi Dove vuoi tu Faccio sotto il verde Ok Vai Prova ad accenderlo Vai Accendi Accende il rosso Curioso Vai, fai la controprova Metti il verde Quello che manca Qua è dalla parte opposta Ok E se provi Si accende il verde Però Prova lì Guarda che sia vero Vedi il rosso va col rosso Il giallo va col giallo Il verde va col verde Assurdo, no? Però aspetta Voglio fare di più Perché in realtà Se noi andiamo a vedere Tutta questa situazione Sembra un po' Un'illusione Perché? Ti spiego perché Perché in realtà Se io vado a togliere Perché Ma è un po' Scusate che schifo Non scusate Se io vado a togliere I Non so I cappucci Non saprei come chiamare I colorati Delle lampadine In realtà Quello che c'è sotto No? Aspetta che Questo non riesco a toglierlo C'è la luce bianca Sì esatto Questo è più difficile Ok C'è una luce Come vedi Aspetta che le spengo Anzi no La faccio prima vedere C'è una luce Come vedi bianca Ok Non colorata Esatto E sono questi Che danno al colore Ok Quindi ora ti chiedo Un'altra cosa Scegli uno di questi Quello che vuoi Verde Il verde Va bene Prendi pure questo Quindi fai tutto te E ti chiedo Il verde Dove vuoi andarlo ad inserire In quale Può essere sotto il verde Dove vuoi Al centro E scegli un altro colore Giallo Prendilo Mettilo dove vuoi Sì Sono un po' Un po' sminchiato Sì Ma va bene Va bene anche se lo lasci così E il rosso Chiaramente Nell'unico post Guarda La cosa curiosa Ora hai scelto Anche dove mettere I cappucci colorati Ma se vai ad esempio A accendere il rosso Mi piace vedere il rosso C'è una manca so Il verde Ma bro Ma perché Giallo Quindi non hai solo scelto Questi ma anche questi Fai una controprova Giallo con giallo Rosso con rosso E verde con verde Assurdo no? A me piace parecchia Questa cosa Però Però Voglio arrivare al finale Vorrei qualcosa di ancora più difficile Vai Dammi pure Io ora Vado a coprire così Aspetta Preghiamo una cosa Vado a coprire così le lampadine Ok Non voglio farti vedere niente Non guardo E ti chiedo Di scegliere liberamente un colore O rosso O verde O giallo Quello che vuoi tu Allora prima ti ho detto verde Questo giro dico rosso Il rosso Rosso Vede Quando te la senti vai a girare Così Ruoto? Sì sì ruoto Fai vedere a tutti Ora c'è Un solo colore Acceso Ed è proprio Aspetta Il rosso C'è Brosto malissimo È bellissimo Hai scelto Cioè Io questa vado a spaccare Bro è bellissimo È fighissimo Sì poi con quello che ti ho detto alla fine Io non ci crederei dal video Dal video Non so Dal video non mi crederei Comunque Hai davvero scelto tutto È assurdo Hai scelto tutto Allora ho messo io i gommini all'inizio E poteva essere una variabile sola Vabbè dai Poi togli le luci Il cappuccino delle luci Poi lo rimetto io dove voglio E si riaccede E si spegne E hai sempre toccato tutto tu Questa è la cosa che a me piace Ci avevo anche in mano Fai tutto te Grazie bro Ti ringrazio per avermi fatto da spettatore Grazie a te bro E spero sia piaciuto anche a voi Se così come sempre Mi piace Mi piace Mi piace Mi commenti Condividete a tutti i vostri amici Appassionati di luci Più vostri amici Che hanno a che fare con la luce Tutti i vostri amici più luminosi Bella raga Ci vediamo al prossimo video Ciao Ciao Ciao